benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it oggi parliamo di un argomento che sembra futile ma vedrete che non lo è per niente sentirsi bella sentirsi brutta recentemente in una intervista per un settimanale mi hanno posto domande sulla bellezza dopo i 50 anni ma attenzione ventenne trentenne quarantenne che stai ascoltando questo podcast non chiudere perché parleremo subito anche di te allora per le 50 anni secondo me c'è una credenza da sfatare cioè non è vero che dopo i 50 anni arriva per forza una maggiore insicurezza sulla propria avvenenza a causa dell'aspetto fisico e dell'invecchiamento quindi la pelle meno tonica le rughe eccetera eccetera in realtà la mia esperienza mi dice che ci sono 50 anni che proprio in quel momento trovano la loro sicurezza personale proprio in quel momento si muovono con più agio nel loro corpo innanzitutto diciamo subito che la questione della bellezza non è una questione secondaria per una donna a qualunque età anche dal punto di vista psicologico perché molto si gioca sulla bellezza per esempio quando noi diciamo come mi sento brutta stiamo dicendo un'altra cosa stiamo dicendo non sto bene e quindi diciamo la bellezza ci serve un po' come paravento e la stessa cosa no quando apriamo un armadio pieno di vestiti e diciamo non ho niente da mettermi e questo fatto non riguarda assolutamente il fatto che non ci siano vestiti nell'armadio ma riguarda il fatto che ci sentiamo a disagio con noi stesse in quei giorni e quindi nessun abito calzerebbe su questo disagio perché noi ci vestiamo noi donne ci vestiamo per sentirci bene per sentirci belle quindi nessun abito quando ti senti brutta può giovare a questo può migliorare la tua sensazione allora sentirsi bella sentirsi brutta è una questione psichica prima ancora che estetica per esempio ci sono persone che mi parlano della loro bellezza del fatto che non si sentono affatto belle e si scusano in seduta dottoressa mi scusi lei penserà che sono una narcisa dottoressa mi scusi lei penserà che questo è un argomento futile e invece vedremo subito che non è non lo è per niente intanto annotazione banale ma che va fatta c'è sempre la bella di casa no quella che è considerata la sorella più bella magari non è la più bella però nella narrazione familiare è passata come la più bella e quindi poi un po più bella lo diventerà perché le parole le parole familiari soprattutto fanno marcatura simbolica e quindi ci sarà un'attenzione particolare e può diventare questa ragazza effettivamente anche la più bella ci sono persone molto belle che si sentono non belle ci sono persone non molto belle che si sentono bello belle e questo è il dato da cui partiamo da che cosa dipende e allora parliamo del cuore di questo podcast cioè della dismorfofobia e quindi quella parte hard della puntata che cos'è la dismorfofobia è un sintomo molto diffuso soprattutto tra le donne è il vedersi peggio di come si è è credere che ci sia una parte del nostro corpo che sia terribile un naso la coscia il gluteo il seno una parte che sia impresentabile una parte del corpo che ci ci produce angoscia un'angoscia sociale se non addirittura un ritiro dal mondo quindi questa preoccupazione eccessiva per la propria il proprio corpo un corpo che non risponde mai a un ideale e diciamo è fortissima tra le idealizzatrici tra le donne che appunto puntano sempre al meglio all'assoluto al al perfezionismo può puntano sempre a qualcosa di raggiungibile a qualunque età la dismorfo questa diciamo la sorella più gentile della dismorfofobia la dismorfofobia patologica e invece può portare a chiudersi in casa escorriarsi la pelle a volte raccoglierne i frammenti eccetera allora uno dei fattori di rischio della dismorfofobia non lo sapete ma adesso lo saprete e direte ma sempre il plus materno esatto sempre il plus materno perché c'è una ricerca condotta e pubblicata quest'anno su una rivista scientifica sul giornale sul journal of affective disorder quindi sul giornale del giornale del del disordine affettivi volume 343 dalle pagine 96 101 la trovate libera su internet potete andare a vedere questa ricerca condotta dal gruppo del professore benedetto farina ordinario dell'università europea di roma che cosa dice questa ricerca dice che l'ipercontrollo parentale quello che ormai lo sapete io ho definito come plus materno c'è quell'eccesso di cura materna che mantiene infantili che non permette di prestare fede a quel che un figlio vede un figlio vede qualcosa pensa qualcosa e non presta fede a ciò che vede no e quindi questo fa parte anche del vedere cose strane è una il vedere è una funzione psichica non è una funzione oggettiva quindi questo plus materno è stato contro il confermato da questa ricerca ricerca che genera una vulnerabilità psicopatologica esattamente come le altre forme di abuso sui minori quindi quando io dico che il plus materno e lo dico dal 2013 è una forma di abuso sui minori sappiamo ora che rappresenta un fattore di rischio non solo per la depressione l'ansia i sintomi ossessivi compulsivi e queste sono cose che sono già state anche mostrate anche in altre ricerche ma riguarda riguarda anche il vedersi in un certo modo quindi la dismorfofobia quindi la fobia di una nostra forma che è vista in maniera come dire completamente sbagliata completamente irreale un'altra conseguenza dell'iperprotezione del plus materno dell'ipercontrollo è associato all'accumulo di cibo questo è in molte forme dei disturbi del comportamento alimentare questo è importante dirlo perché recentemente proprio una ragazza eh bulimica con che aveva girato varie varie istituti aveva parlato con varie con vari terapeuti io a un certo punto capisco che c'è una situazione di plus materno metto in relazione questa cosa questa ragazza si illumina e mi dice ma dottoressa ma non me l'aveva mai detto nessuno questo ma è certo che così io sono invasa da mia madre e e quindi e quindi adesso non faccio la storia di questa paziente che comunque tornerà tra poco dunque che cosa succede che i genitori che si sostituiscono al bambino nella gestione del proprio corpo creano un adulto che sarà fragile inadeguato che si sentirà difettoso che avrà una specie di marchio di handicap no e d'altra parte il plus materno appunto cosa fa mette stampelle a figli che potrebbero camminare e correre frenandone o addirittura impedendone il cammino allora poi c'è un altro un'altra questione la claustrofilia familiare correlato nel plus materno può generare la percezione del mondo come un mondo cattivo minaccioso giudicante esigente da cui proteggersi quindi nessuna fiducia sul mondo e allora questa questione del mondo esigente lo capite bene che crolla non è il mondo che è esigente è la fantasia sul mondo che è esigente il mondo non è non è così esigente il mondo della scuola per esempio non è così esigente oggi sui nostri figli forse era esigente qualche decennio fa ma questo questo mi soffermo perché il mondo pensato come esigente cattivo minaccioso giudicante è stata la fortuna di teorici che hanno spiegato in questo modo gli echikomori cioè i ragazzi che si chiudono in casa non escono più come se gli echikomori scegliesse di chiudersi in casa perché vessato da un esige da esigenze troppo elevate della scuola questo naturalmente è stato una teoria molto abbracciata perché perché sgravava i genitori dalla loro responsabilità siamo una società che non può toccare il materno e la famiglia come causa di disagio psichico preferiamo additare altri agenti la scuola e tutto ciò che sta fuori del mondo ma tutto ciò che sta fuori nel mondo certamente sono meno formative della famiglia per un semplice fatto perché hanno a che fare con la costruzione della psiche dei minori per meno tempo e soprattutto meno precocemente che la famiglia allora facciamo una piccola una piccola a fondo psiconeurologico in uno studio recente adensato e altri sono nel 2019 riscontra un'associazione significativa tra la severità dell'ipercontrollo materno quindi del plus materno e ascoltate bene una diminuzione della connettività delle aree cerebrali delle aree cerebrali coinvolte nella capacità di regolazione affettiva quindi abbiamo ragazzi che crollano sull'affetto sulla gestione affettiva ora torniamo un attimo alla questione apparentemente alla frivolezza di una questione sulla bellezza femminile ma vedete che frivolo non è allora che cosa succede negli ultimi anni io ho voluto fare una piccola inchiesta ad alcune estetiste di lunga esperienza che conosco e ho chiesto loro ma voi cosa vedete di differente nelle vostre clienti negli ultimi anni allora è interessante perché tutte e tre queste professioniste tre è un campione minimo per carità però sono di tre aree geografiche diverse sono di età diverse sono insomma è interessante comunque come campione poi comunque è quello che avevo a disposizione dunque questo vi farete bastare allora queste professioniste mi hanno detto che la cosa più richiesta delle loro clienti storiche è la depilazione intima totale soprattutto in quelle donne che prima non la facevano e mi parlano di un 99 per cento delle loro clienti che appunto fanno questa operazione quindi non si tratta di persone che l'hanno sempre fatta ma di persone che cominciano a farla e quindi per noi è interessante perché l'epilazione totale sto parlando evidentemente della zona intima e tutto ciò che riguarda le zone intime sappiamo che hanno a che fare molto con la psiche la psiche femminile e dunque ci dobbiamo chiedere almeno io mi voglio chiedere spero che anche voi siate come dire curiosi di questo che cosa significhi allora non ce la caveremo certo voi sapete che con me le scrocciatoie non è che sono tanto come dire percorribili non ce la caveremo certo dicendo che è solo una moda e comunque apriamo e chiudiamo la parentesi le mode hanno anche loro ragioni più profonde intercettano bisogni indotti certamente ma anche spontanei di una certa epoca e quindi noi siamo in un tempo effettivamente in cui bisogna essere giovani magri curati e se non siamo giovani dobbiamo averne l'aspetto ora l'apparenza di un sesso femminile completamente epilato può diventare uno schermo su cui proiettare delle fantasie di ringiovanimento e quindi mimare un sesso femminile più giovane di quello che sia di quello che si ha e voilà ecco il pube pre pubere allora io mi sono chiesta ma questo bisogno vuol dire che c'è una rinnovata sessualità magari anche con un partner nuovo voi sapete che oltre che forse più che il confessionale molte donne si confidano con l'estetista le quali sono anche molto professionali sono anche molto come dire riservate allora anche se molte donne possono dire di no e dicono ma così mi sento più pulita ma è chiaro che c'è anche solo in fantasia l'idea di una come dire di una di una sessualità nuova di un ritorno quindi non voglio dire che tutte quelle che fanno questa operazione abbiano dei nuovi amori ma penso che ci sia una fantasia di nuovo anche in questo la questione della pulizia mi sembra francamente un po' debole mi sento più pulita mi sembra abbastanza una questione un po' deboluccia poi va bene ci sono quelle che dicono che lo fanno per il loro compagno e questa parte diciamo è la parte più triste della faccenda allora però adesso voglio concentrarmi sulle ragazzine 14, 15, 16 anni minori minori che vanno a epilarsi è una moda lo sappiamo sono quasi tutte epilate ma sempre queste tre estetiste tutte e tre mi raccontano di episodi in cui vanno a epilarsi con l'avvallo della mamma ma la mamma resta in cabina resta in cabina a guardare a guardare a guardare anche nella epilazione in un caso che mi hanno raccontato dei peli anali allora l'estetista scelta si suppone essere scelta dal genitore perché è una seria professionista dunque perché restare in cabina non può essere certo una questione di insicurezza perché violare l'intimità di una figlia e violare quella intimità quella fiducia che si stabilisce tra la ragazza e la sua estetista questa invasione secondo me è terribile e si configura sostanzialmente come un comportamento incestuoso una paziente quella che vi dicevo prima mi racconta che in gioventù decise di rifarsi il seno a 18 anni e la mamma l'accompagnò a scegliere la misura e mentre lei voleva una taglia e mezza in più la madre decise per una per mezza taglia in più capite che anche qui c'è una incestualità inaccettabile poi ultima ultima questione ero io in cabina e nella cabina a fianco sento una ragazza che dice all'altra estetista sì sì mi sposo ma l'ultima notte la voglio fare nel letto con la mamma ma che tesoro che tenerezza allora io direi che possiamo finire qui questa questione ci sarebbe anche da parlare dell'invida della madre sulla sulla figlia in casa che quindi sulla sua bellezza sulla sua florescenza ma direi che sono stata già abbastanza come dire incisiva in questa nostra puntata per cui vi saluto su questo punto alla prossima avete ascoltato il podcast alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it a Grazie a tutti.